Ciao! Grazie, grazie, grazie mille! Veramente grazie! Abbiamo raggiunto i mille iscritti, li abbiamo anche superati, perché nel momento che ho visto che vi avevi raggiunti, fortunatamente la gente continua a iscriversi. Quindi grazie mille! Quando ho aperto questo canale YouTube ad agosto del 2017, quindi non molto tempo fa, non pensavo di raggiungere così in fretta questo risultato. Voglio infatti ringraziarti perché questo canale è nato con lo scopo di portare l'informazione su tutte le tecniche per raggiungere e mantenere il benessere di corpo, mente e spirito, portare queste tecniche a conoscenza di tutti, affinché tutti ne potessero beneficiare. Grazie per avermi seguito sinora, grazie per avermi sostenuto, grazie per aver fatto dare così in fretta questo risultato e grazie per diffondere sempre più tutti i miei video. A presto, grazie mille, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!